Ciao a tutti! Come vedete sono in una sala di doppiaggio perché sto doppiando un film incredibile. È la storia di Kina e Yook, due volpi artiche, alla scoperta del mondo. E io sono qui proprio per raccontarvela la loro storia. Ma non voglio svelarvi troppo, quindi guardate il trailer e soprattutto andate al cinema a vederlo. Ciao! Questa è la storia di Kina e Yook. Tra i ghiacci del nord e due volpi artiche si preparano all'arrivo dei loro cuccioli. Insieme aspettano il grande giorno. Ma la natura ha le sue regole. Separati dallo scioglimento dei ghiacci, Kina e Yook iniziano un incredibile viaggio. Senza sapere se riusciranno a riunirsi. Quest'anno... Vivi una straordinaria avventura Per tutta la famiglia Incontrerai nuovi simpatici amici In un viaggio straordinario attraverso le meraviglie della natura Kina e Yook alla scoperta del mondo dal 7 marzo al cinema Grazie a tutti. Grazie.